Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in un altro fantastico episodio delle nostre review culinarie no, basta, culinarie non lo posso più usare come termine è già andato oggi saremo io, Fabrizio, il cane e la mia ricrescita esatto, ma digli la ricrescita dove? dei capelli? sì potrebbe sembrare qualsiasi altra cosa no, sto parlando della mia ricrescita nera sul rosa il cane non si vede però c'è sta qui dietro morta oh, penso si vede sì, penso si veda ok e niente, quindi se sentite i rumori è un cane che sbuffa un sacco che piange che piange e sbuffa è un fornitore di rumori di sottofondo va bene allora, oggi mi sono premurata di prendere cose salate per Fabrizio così romperà poco le palle tutte le cose che abbiamo oggi le ho comprate da Pipo Pipo già ve l'avevo parlato sì e niente, l'ho preso tutte da loro quindi vi linko qua sotto il loro shop su Facebook io mi trovo sempre bene da loro fanno degli app boh, settimanali bisettimanali comunque non c'è non ho idea di no, lui non ha idea di che cosa gli abbia portato io nemmeno ho idea di cosa mangiamo questi sono i piselli con sopra il poliuterano espansimo esatto questi mi sembrano belli tosti aspetta che non lo sto sembrano non lo sto sembrano non lo sto sembrano no, però vabbè aspettami madonna, mo è tremendo che ne sai non sono buoni allora sono tipo i piselli secchi con questa copertura strana non capisco però sono i primi 5 sono salati ma poi sento solamente il dolce del pisello non lo so la cosa buona è che non spuccano troppo però non lo so ho messo tra dolce e salato ma c'hanno un po' di sapore polveroso in realtà in bocca cioè non sono cattivi li mangio, li finirei pure però non li ricomprerei possono andare salatini possono andare ok Fabrizio ha scelto la via della cecita perché c'era il riflesso sugli occhiali quindi non vedrà un cavolo di quello che mangerà va bene, forse è meglio allora io andrei con questo e questo che sette lo dovete vedere da vicino allora andrò con questo dai è un finto con omiachi non si capisce nulla ma non è che sto senza occhiali proprio si capisce mi fai vedere il disegno non voglio vedere cosa ti diceva dietro secondo me questi sono di quelli ziozzi mega burrosi speziati ah ma sono samebay ma c'è pure una polvere dentro quel per l'antitarme eh bella no solo è la salsa che ti dice di metterci sopra vedi ah ma certo se sa sembra soglia soglia cremosa sembra soglia visivamente però in realtà è più oh sì non tanto è mai anche questo l'ha pulito invece più delle due dita è criminale sto qua tutto salato senza sapore solo salato il zembeza è tipo di soia proviamo a mangiarlo senza è troppo salato è troppo forte forse ce ne ho messa tante oppure vedendo la bustina è sembrato che ce ne devi mettere parecchia insomma è tipo proprio dolce la salsa è molto saporito saporito è molto saporito è come se fosse una cosa non sai tipo le gallette di riso che non hanno sapore in tinta in una salsa super saporita tipo soia con del sale aggiunto quindi vai a mangiare una cosa che di base è un ciascatore però poi ti lascia molto salato è un'escrizione che potrebbe andare è un neutro salato queste sono proprio belle sì shanai food su queste ho molta speranza sono chips di patata come le patatine però di patata viola quindi patata dolce belle no quindi vediamo le pezze un po' ricercate anche tutto my love my love good mood un po' a cavolo come ok però ne ho spettato più viola più viola non so per niente viola però sono dolci ma guardate la cosa salata oggi che strana raga praticamente sembra sembra la cucina indiana tutto quello che ti avanzo dalla cucina indiana ho frulli ho dritti e c'è fai una patatina ed è questa perché è un sacco speziata lo speziato del carico ci sta il coriandolo il e pure un pochettino di scampina la burcuma tutte le spezie sono buone però non è quello che mi ha aspettato neanche io anche vedendo il disegno il packaging che ti aspetti io mi aspettavo una patata così super figa mi aspettavo proprio delle chips normali viola è pubblicità ingannevole l'ultimo pezzo è in realtà una cosa un po' diversa e strana si perché sono normali molto molto ed è i due porzioni di mini kitkat e fino a qui tutto ok solo che sono alla patata dolce e sono cucinabili bakeball come li chiami? da cucinare? aspetta ma sono cucinabili non so se li puoi mangiare normali li puoi mangiare sia normali scusatelo li puoi mangiare sia normali sia come consiglio d'uso di scaldarlo e farlo sciogliere perché così dà l'idea della patata arrostita come sta fatto? allora facciamo una cosa allora non ne prepareremo uno al forno che si sta scaldando e lo facciamo come andrebbe cucinato proprio da istruzioni che abbiamo ovviamente letto e tradotto e un altro però io vorrei aprirlo dai un morsichino e provare al microonde se dentro c'è una cosa magari cruda da cuocere o da sciogliere no no in teoria no è solamente perché si scioglie hanno fatto un risalto al cioccolato più alto mmm però senti l'odore oddio oddio si sta sciogliendo in mano tu vai là buttare com'è? buono però molto dolce sembra un cioccolato bianco un po' diverso non so dirvi come è un cioccolato bianco non è dolce un cioccolato bianco diverso cioè vabbè patata dolce si ormai si va senza microonde beh pezzo del microonde non ci sta non ho saltato e questo? è lo stesso solo che è doppia porzione smettila fammi parlare ok un disturbatore e che scotta scotta che altro occhio che è carbonizzato però l'odore sembra buono buono è anche un po' crepato di lato è vero occhio che scotta no c'è occhio che casca volevo dire occhio me ne va a occhiali così non lo vedo scotta casca scatta attenta che c'è un cane che piange vieni qua vieni qua ecco come è fatto dentro vabbè con un kit cut kit de cat è brusco l'odore è buono però sembra tipo di zucchero caramellato come ti pentirai questa scelta buono assaggia dai che scotta appunto buono è molto buono molto meglio rispetto a quello mangiato crudo sì è bello è carina l'idea però non è molto pratico nel senso complicato perché si biscotta cioè la parte di cioccolato si biscotta quindi si quello che dico io stai per strada te compri in kit e cattolo te lo vanno a mangiare capito vabbè che c'entra questi sono quelli particolari che non ti compri perché non vuoi mangiare lo so però quando lo cuoci è buono perché sotto gli rimane il cioccolato morbido come quando è crudo e sopra si si caramellizza e quindi diventa tutto sconocchiarello caramello vero? molto anche un po' giallo e vedi qua quello se lo sei riuscita a non farlo uccidere tutto abbassa le mani caprizio abbassa le mani mi alza le mani addosso che ci credo poco abbassa le mani qua immagini questo tutto unito a te vabbè ragazzi un video veramente a tappe abbiamo fatto un po' disorganizzato non disorganizzato non è il termine giusto diciamo non mi aspettavo con quei dischetti di essere così salati come andavano cucinati forse abbiamo preso delle cose dovevamo leggere con più attenzione organizzarci meglio questo però alla fine al forno con due minuti si prepara forno caldo messo il grill solo sopra in due minuti è pronto in particolare è la cosa più buona e più riuscita del video sì esatto mi spiace una cifra per le patatine perché avevo alte aspettative non so che si trova le bricele sono infinite veramente sì le patatine perché ci aspettavamo il colore magari il colore viola della patata viola però il sapore non era male probabilmente il sapore non era male effettivamente era solo un fatto d'aspettativa sì 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 va bene ragazzi adesso vi salutiamo perché è l'ora di pranzo e ci siamo riempiti lo stomaco con queste cose e invece mi vado a fare un piatto di pasta che non so cucinare quindi sotto la sua supervisione il sugo mi ha lasciato mamma quindi proprio le cose dei bini riuscirò a fare male anche quella sì confermo va bene è tutta la bricele d'acqua sul mento ma dai che ho leccato le bricele dal foglio va bene ragazzi per oggi è tutto io spero che vi abbiamo comunque tenuto compagnia perché davvero scusate questo video è stato un po' buttato lì come uscito fuori così diciamo non stiamo a casa su le altezze le luci tutto un po' disorganizzato però vabbè al massimo non schippate tutto andate a vedere il punto in cui mi scotto col kit vi metteremo tipo un minuto sotto il minuto in cui potete vedere il video quegli ultimi due minuti almeno una cosa divertente va bene poi la prossima volta ci sarà qualcosina di diverso dobbiamo ancora fare il popin cookie non so infatti però quello ci serve un pochettino più di tempo perché non sappiamo nemmeno noi in realtà quanto ci si può mettere è tosto ragazzi insomma la mezzoletta di quello viene fuori chiamo un attimo il dentista mi prenoto e poi facciamo il video ma più che altro le staccavotturazioni sarà tipo super chimico però quello dobbiamo assolutamente farlo e ma chi no? no ecco fatto va bene ragazzi secondo ero un video per oggi è tutto e questo mini video è stato un mini video che cosa o meno non è vero no vabbè taglierai un botto toglierò un botto però comunque saranno 15 minuti va bene no non credo va bene ragazzi anche per questa volta è tutto vi salutiamo e vi aspettiamo nel prossimo video ciao 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 sì abbiamo questo bisello ho capito tu quelli chiami baccelli bisellini bisellini verdi città 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 ho attaccato la lingua non sai che mi sembrava il salame sembra una fette di salame è vero con il grasso guarda sembra una fette di salame milano e chi se ne frega perché tanto il canale è il nostro quindi ci carichiamo quello che ci fare e il canale è mio infatti è il suo ho prodotto in cina questo è o zero cinese è Ling sto forte come sono parlato i primi dieci numeri in cinese mi sono sicuro scordati fateli un applauso mi prego signora è arrivata donna 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 è che non lo faccio